Importanti novità qui da Barcellona al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica per il trattamento delle donne con una diagnosi di tumore dell'ovaio in stadio avanzato. Infatti sono stati presentati i risultati di uno studio che era veramente molto atteso, lo studio Paola 1. Noi ce li facciamo raccontare da una delle autrici principali di questo lavoro, la professoressa Nicoletta Colombo. L'anno scorso qui al Congresso ESMED erano stati presentati con grande clamore in senso positivo e i risultati dello studio Solo 1 e ci avevate raccontato che questo studio aveva cambiato lo scenario terapeutico. Lei in conferenza stampa ci aveva detto che c'era grande attesa però per i risultati dello studio Paola 1 in cui di nuovo si utilizza Olaparib come ne Solo 1 come trattamento di prima linea. Perché questo nuovo studio che è stato presentato quest'anno era uno studio così atteso? Perché questo studio, a differenza del Solo 1, ha incluso tutta la popolazione di pazienti con carcinoma ovarico seroso di alto grado e quindi voleva vedere se il beneficio osservato con l'aggiunta di Olaparib alla terapia di prima linea nelle pazienti con mutazione BRCA potesse essere esteso anche ad altri pazienti, quindi non soltanto alle pazienti con mutazione ma tutta la popolazione. Quindi qual era nello specifico il disegno dello studio Solo 1 e quale il disegno dello studio nuovo, quindi Paola 1? Come differiscono questi due studi al dià di quello che lei già ci ha detto? Allora, lo studio Solo 1 era uno studio disegnato solo per le pazienti portatrici di mutazioni dei geni BRCA e questi pazienti ricevevano la chemio di prima linea e alla fine, se in risposta alla chemioterapia, ricevevano una terapia di mantenimento con Olaparib per due anni. Lo studio Paola 1 differisce per due importanti motivi. Il primo, come dicevo, è la popolazione. Qui non abbiamo selezionato solo le pazienti con la mutazione ma ci sono tutte le pazienti che avessero un tumore seroso di alto grado. Il secondo motivo è che nello studio Paola 1 le pazienti ricevevano la chemioterapia con garboplatino e taxolo ma anche insieme alla chemio ricevevano Bevacizumab. Il Bevacizumab alla fine dei sei cicli, quando la chemioterapia comunque viene interrotta, veniva proseguito ma a questo punto le pazienti venivano randomizzate per ricevere oltre a Bevacizumab, Olaparib come mantenimento per due anni o placebo. Quindi diciamo che il braccio di confronto in questo caso è una terapia standard con carboplatino, paclitaxel e Bevacizumab verso carboplatino, paclitaxel e Bevacizumab con Olaparib per due anni come mantenimento. Che risultati aveva dato lo studio Solo 1 che appunto aveva fatto tanto parlare di sé l'anno scorso? Lo studio Solo 1 aveva dato dei risultati eccezionali in quanto aveva dimostrato un beneficio di almeno tre anni per le pazienti che avevano ricevuto Olaparib, quindi questo è qualcosa di mai visto e che non era mai stato visto prima nel trattamento del carcinoma ovarico e ha portato certamente a una modifica radicale nel trattamento di prima linea per le pazienti con mutazione BRCA. Veniamo invece ai risultati di quest'anno, ai risultati dello studio Paola 1. Quali sono i numeri? Allora, lo studio Paola 1 ha incluso 800 pazienti che appunto venivano trattate con carboplatino, paclitaxel e Bevacizumab e poi alla fine dei sei cicli venivano randomizzate per ricevere Olaparib o placebo. Questo studio aveva come obiettivo primario quello di determinare se l'aggiunta di Olaparib potesse aumentare la sopravvivenza libera da progressione in tutta la popolazione. E così è venuto, lo studio ha raggiunto le sue impone primarie in quanto ha dimostrato un vantaggio statisticamente significativo. Abbiamo un hazard ratio di 0,59 che si traduce dal punto di vista di mesi di guadagno da una mediana di sopravvivenza nella popolazione di controllo di 16,6 mesi a un guadagno che arriva a 22,1 mese invece nel braccio trattato con Olaparib. Oltre a questo sono state fatte numerose analisi di sottogruppo. In modo particolare è stato visto per esempio il sottogruppo delle pazienti con mutazione BRCA e qui si è confermato il beneficio che avevamo visto con il solo 1, esattamente con la stessa hazard ratio di 0,31. quindi confermato in assoluto un grande beneficio per queste pazienti. Però la cosa importante è che queste pazienti sono state anche, queste pazienti del Paola 1, sono state anche studiate per la presenza di quella che noi chiamiamo deficit o deficienza della ricombinazione omologa che è un meccanismo di riparo del DNA. Questo è una testa che viene fatto sul tumore che ci consente di selezionare una popolazione che ha questo deficit della ricombinazione omologa. Andando a vedere quindi questa popolazione, quindi non soltanto con mutazione ma con questo deficit della ricombinazione omologa, il beneficio si mantiene ancora estremamente elevato con un hazard ratio di 0,33, quindi molto vicino a quello delle pazienti mutate. Addirittura poi si è fatto un'altra analisi, cioè abbiamo visto se nelle pazienti che avessero questo deficit della ricombinazione omologa ma non avessero la mutazione, se il beneficio si manteneva e anche qui si è mantenuto un grandissimo beneficio con un hazard ratio di 0,43. Quindi diciamo che tutta la popolazione con un gradiente forse progressivo di beneficio massimo nelle pazienti con la mutazione, poi se andiamo a vedere la popolazione con il deficit della ricombinazione omologa tutte hanno un beneficio. Ecco l'unica popolazione che non ha dimostrato un beneficio è quella che invece non aveva la mutazione e non aveva questo deficit della ricombinazione omologa. Ecco in questo sottogruppo non si è visto una differenza statisticamente significativa nella mediana o comunque nella sopravvivenza libera da progressione. Alla luce di questi risultati dello studio Paola 1, quindi lo scenario cambia ancora, in conferenza stampa la professoressa Bangerì che ha commentato i risultati di questo studio ha detto che secondo lei è così. Lei è d'accordo? Ma sicuramente, io credo che ancora una volta per fortuna abbiamo avuto un risultato estremamente positivo che cambierà sicuramente il trattamento di prima linea delle nostre pazienti perché oggi abbiamo un'arma in più e addirittura quest'arma si aggiunge a quello che attualmente era il massimo del nostro trattamento standard, quindi non soltanto chemioterapia con carboplatino e pacitaxia ma anche bevacizuma. Quindi lo studio è importante perché ha aggiunto Olaparib a carboplatino, pacitaxia e bevacizuma. Quindi abbiamo già uno standard assoluto al quale viene aggiunto un beneficio e soprattutto non soltanto per una popolazione ristretta ma per una popolazione molto più estesa. Sempre diciamo di fronte a questi risultati, qual è oggi quindi dopo lo studio Paola 1 il ruolo del test del BRCA? Quali sono le donne che devono farlo e in quale momento del loro iter di cura? Tutte le donne ancora oggi comunque devono fare il test a tutte le donne che hanno una diagnosi di carcinoma ovarico. I risultati di questo studio che stendono il beneficio anche alle altre pazienti non devono assolutamente portare a non eseguire il test a tutte le pazienti al momento della prima diagnosi perché comunque questo ci può aiutare a definire meglio il percorso terapeutico. Quindi assolutamente il test va fatto e va fatto a tutte le pazienti. ecco professoressa però appunto in questo studio sono state valutate anche queste donne che avevano questo deficit della ricombinazione omologa ma quindi le pazienti devono fare un ulteriore test per valutare se è presente questa alterazione? Allora nel mondo ideale direi di sì perché ci può dare delle informazioni sicuramente aggiuntive che ci aiutano nella scelta terapeutica. Devo dire che al momento attuale però questo test non è ancora disponibile o meglio viene eseguito da una compagnia ma credo che in futuro ciascuna istituzione più o meno accademica debba organizzarsi per poter eseguire in casa questo test in modo da caratterizzare meglio la popolazione e quindi individualizzare il trattamento. Quest'anno è stato un anno molto proficuo per gli studi sul tumore dell'ovaio. Oltre al Paolo 1 sono stati presentati anche altri studi importanti di fase 3 sempre sull'utilizzo di inibitori di PARP come terapia di prima linea per le donne col tumore ovarico avanzato. Quindi a luce di tutte queste novità positive che messaggio si sente di dare alle donne che ricevono la diagnosi di questo tipo? Altri due studi hanno dimostrato e confermato il vantaggio per l'utilizzo di un PARP inibitore nella terapia di prima linea. Come dicevo questo rappresenta un grandissimo avanzamento nelle nostre conoscenze, nelle nostre possibilità di cure e di trattamento della malattia. Io credo che stiamo finalmente dopo tanti anni di silenzio e di inerzia, le cose stanno cambiando. Ogni anno abbiamo una novità che ci fa migliorare il nostro trattamento e quindi la possibilità di dare alle nostre pazienti sicuramente una sopravvivenza più lunga e anche possibilmente una qualità di vita migliore.